Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 30 Caserta Salerno dalle 22 del 20 febbraio alle 6 del 21 per lavori chiuso lo svincolo Sarno in uscita in direzione Caserta. Per i vicoli provenienti da Salerno si consiglia di uscire allo svincolo Nocera Pagani. Sulla 2 del Mediterraneo causa lavori di ammodernamento e di manutenzione, riduzione di carreggiata fino alle 16 del 6 marzo tra i svincoli campagna deboli verso Fisciano. Sulla tangenziale di Salerno fino alle 6 di sabato 30 marzo per lavori istituiti alla riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite fratte via Irno in direzione Ponte Cagnano. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.